Anche la sezione di Santo Stefano di Camastra dell'Associazione Nazionale Carabinieri ha voluto ricordare il 41esimo anniversario della guato mafiosa in cui fu ucciso il generale Carlo Alberto della Chiesa insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente scelto della Polizia di Stato Domenico Russo. È stata una serata intensa ed anche molto partecipata con diverse autorità civili e militari che non hanno voluto mancare a questa manifestazione denominata Dono della Vita. Il messaggio è quello di avere fiducia nelle istituzioni e questa sera lo stiamo dimostrando anche se un solo bambino dovesse per esempio chiedere ai suoi genitori chi era il generale della chiesa, il prefetto della chiesa abbiamo ottenuto l'obiettivo di trasmettere alle future generazioni un messaggio sia naturalmente di legalità ma anche di conoscenza dei grandi eroi. Il bielo si è avuto con la celebrazione della Santa Messa celebrata dal reverendo padre Calogero Calanni, arciprete della parrocchia San Nicolò di Bari di Santo Stefano di Camastra, alla presenza delle massime autorità cittadine, civili e militari. Subito dopo la funzione religiosa il corteo ha raggiunto Piazza Belvedere dove è stata deposta una corona di alloro in onore dei caduti militari e civili nelle missioni di pace. Successivamente si è inaugurata all'interno di Villa Italia la mostra Virgo Fidelis, un progetto dell'Associazione Nazionale Carabinieri con la compartocipazione della Legione Carabinieri Sicilia e realizzato dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Una serata emozionante che serve a tenere vivo il ricordo e nel contempo a rinsaldare il buon rapporto tra arma e le comunità. Sì una bella serata per stare insieme istituzioni, cittadinanza e sindaci, ci sono i sindaci non solo di Santo Stefano di Camastra ma di tutto il circondario a significare questa forte coesione fra l'arma dei cremini attraverso le stazioni e i singoli comuni. Oggi è una giornata di memoria, abbiamo ricordato il nostro generale, il prefetto Calaberto della Chiesa e con lui vogliamo ricordare tutti i caduti per il contrasto a ogni forma di legalità e di crimine organizzato.